Ciao belle bimbe, nuovo video, questo sarà un tutorial per le super mega principianti, proprio un progetto facilissimo, una cosa che io ho fatto, questo modellino d'orecchini più di un anno fa, alcune ragazze mi hanno chiesto di fare un tutorial che comunque può essere utile, siccome è molto veloce da fare ho detto dai ci sta. Prima però vorrei farvi vedere due progettini di cui ho fatto lo schema pubblicato nel mio negozio Etsy in vendita, questo è un paio, sono gli orecchini Fabrizia, anche questo avevo fatto un primo modello mesi fa, volevo fare il tutorial e ho scelto di fare lo schema pagamento da inserire nel mio negozio. Poi vi lascerò il link qua sotto, però volevo farveli vedere bene perché magari in foto sono una cosa, c'è in video un'altra. Poi il secondo paio di orecchini invece sono gli orecchini Fortuna, anche questi già lo schema è già nel mio negozio Etsy e sono questi qui. E niente, volevo farveli vedere, presentarveli e poi vabbè sotto vi lascerò tutti i link nel caso foste interessati anche solo per spirciare. Ora, in questo video invece facciamo questo paio di orecchini, è veramente una sciocchezza, una cosa piccolina piccolina che io avevo creato per utilizzare queste monachelle lunghe che a me piacciono tanto, sono particolari, però essendo già lunghe, molto pendenti, non ci si può mettere sotto una cosa troppo cicciotta, grossa e pesante, secondo me. Quindi avevo realizzato questo paio di orecchini veramente molto basic, si chiamano Smart, Smart se vi dico perché mi ridete perché ha le quattro perle e ho pensato alla Smart 4x4, vabbè all'auto vabbè, no mi sapete che io, vabbè. Quindi ci serviranno delle perle da 8 mm, 4 per orecchino, delle rocaille, dove sono? Aspettate perché era tutto un po' spostato, delle rocaille 11.0, semplici rocaille 11.0, ago e filo, io uso il filo della tessitura Miyuki e basta. E poi vabbè, la monachelle a vostra discrezione, io uso sempre questa qua lunga, ma in realtà poi potete usare quella che volete, è molto carino come modulo, è piccino magari anche per fare un bracciale, vabbè, adesso. Ok, sistemo tutto e torno tra poco. Allora, io mi sono portata avanti come sempre, il primo passaggio ogni volta faccio così, ho inserito sul filo le quattro perle da 8, alternata a 4 rocaille. Ho chiuso a cerchio e mi porto ad uscire con il filo da una rocaille. Ora dobbiamo inserire sul lago 9 rocaille, ho perso il conto, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quindi 9 rocaille e andarci ad inserire semplicemente nella rocaille subito dopo, saltando la perla. Vedete? E fate così per le altre tre volte. Una volta creati tutti gli archetti, portatevi ad uscire dalla perlina centrale di una di queste, quindi è la quinta. la perlina al centro. Ora, senza inserire nulla, ci inseriamo con l'ago semplicemente nella perlina centrale di tutti gli archetti. Contate bene, mi raccomando, che sennò viene sballato. Ci continuiamo, lo facciamo insieme perché tanto è un attimo. L'ultimo, io mi porto avanti, entro anche già nella prima in cui ero entrata e ora semplicemente andiamo a tirare il filo. Vedete che tirando il filo gli archetti si chiudono, adesso se mollo si allargano, quindi ripassate un paio di volte nelle punte per stringere bene. Dopo aver stretto bene il lavoro, attraversate le perline senza inserire niente fino ad uscire da una perla da otto. Inseriamo ora sull'ago 3, 11, 0, quindi 3, 11, 0, ed entriamo nella perla da otto successiva saltando la roccaile in mezzo. Andiamo a formare questa piccola punta, questo picco, e fate così per gli altri spazi. Una volta che abbiamo fatto tutti i picco tra le perle, portatevi ad uscire da una perlina centrale, quindi di punta, delle 3 che abbiamo appena inserito. Ora inserite sul lago 4 roccaile, 1, 2, aiuto, scappano, 3, e 4, mi sto rimanendo quelle tappate, ecco, 4, e rientrate semplicemente nella perlina dalla quale è stato uscendo. Io per comodità rientro anche in quelle dopo, potete farlo anche in un secondo momento, come farò io perché non riesco, niente, rimangio. Quindi tirando il filo vedete che avete formato il cappiettino. L'orecchino è finito, Diego si è svegliato, e non vi resta che annodare il tutto e montare con la monachella. Ciao, alla prossima! Ciao!